Un saluto a tutti voi ben ritrovati telespettatori di CatalanTV. Nuovi parametri per i cambi di colore delle regioni ma anche l'obbligatorietà del Green Pass dal 6 agosto. Questo per determinare l'attività e ambiti come bar e ristoranti al chiuso. Novità che potrebbero influire sulla stagione estiva in corso anche ad Alghero. Ne abbiamo parlato con l'assessore al turismo Marco Di Gangi che ha tracciato un bilancio di queste prime settimane dicendosi ottimista per agosto. Settembre invece resta ancora un rebus. Siamo in piena stagione estiva, turisti che sono arrivati ad Alghero stanno continuando ad arrivare. Ci sono però anche le novità del governo, una su tutte il Green Pass rischia di condizionare questa stagione. Intanto sì, confermo l'andamento positivo della stagione. Luglio-agosto e agosto in particolare praticamente arriveremo al sold out, speriamo almeno se la tendenza continui ad essere questa. Continuano ad arrivare richieste di persone che cercano una soluzione per il periodo normale delle ferie che è prevalentemente agosto. Si notano già saturazioni in determinati comparti in particolare. Il Green Pass noi speriamo che possa da un lato incidere positivamente sui flussi dall'estero. Abbiamo qualche riserve, almeno io personalmente ho delle riserve sul fatto della richiesta del Green Pass nell'accesso ai locali pubblici, in modo particolare ristoranti, bar all'interno, ma anche per una serie di eventi, perché corre il rischio di aggravare già un lavoro pesante che stanno facendo tutti gli operatori. Però sono convinto che se ci sarà equilibrio, anche da questo punto di vista, magari si riusciranno a superare quelle che sono le difficoltà che adesso appaiono. Dall'altro lato è chiaro che l'incertezza comunque continua a permanere, settembre ancora fatica, è vero che la decisione della vacanza spesso è last minute, proprio per questi motivi che stavamo evidenziando prima, però sembra di cogliere segnali positivi. Io sono certo che superato quest'anno, superata questa fase, che speriamo vada nel migliore dei modi, già nel 2022 noi potremo pensare di tornare a quella che era una volta l'ordinaria nostra esistenza, perciò anche dal punto di vista lavorativo, dal punto di vista turistico, tornare a quei ritmi e a quelle modalità. Alghero è sempre molto attrattiva, io colgo proprio segnali in questo senso, la Sardegna in generale, ma anche Alghero, continua ad avere un forte appeal nei confronti dei potenziali turisti, in modo particolare quelli italiani, però non appena si apriranno flussi normali controllati dall'estero, sono certo che anche lì torneremo ad avere i numeri che c'erano prima del Covid, per cui dobbiamo stringere ancora i denti, dobbiamo ancora pazientare, però i segnali si vedono, basta uscire la sera in città per cogliere questi elementi, la presenza di tanta gente, i ristoranti che lavorano, i bar che lavorano e sono i principali indicatori, perciò io credo che nonostante le premesse fossero così incerte, si stia andando verso un graduale ritorno alla normalità. Chi non è soddisfatto del nuovo decreto del governo sono sicuramente i gestori delle discoteche che resteranno chiuse, ma non sono i soli, perché ad esempio c'è la protesta anche dei ristoratori, non siamo sceriffi, fateci continuare a fare il nostro lavoro, e anche a Dalghiaro si fa sentire la voce del movimento imprese e ospitalità. Dopo l'approvazione delle nuove regole per l'accesso ai locali pubblici da parte del Consiglio dei Ministri, scoppia la protesta delle discoteche. Le principali associazioni di categoria del comparto chiedono un incontro immediato al Bremer Draghi per comprendere in dettaglio le ragioni che l'hanno spinto a prorogare ulteriormente la chiusura dei locali da ballo. Pretendiamo risposte che siano risposte serie, sottolinea Maurizio Pasca, presidente di Silb, il sindacato dei locali da ballo legato a Fipe e Confcommercio. L'ultimo decreto dimostra che esiste un vero e proprio pregiudizio da parte di questo governo nei confronti delle discoteche. Dal 6 agosto i possessori di Green Pass potranno ballare ovunque, tranne nei locali nati per questo scopo. Di fatto, con questa nuova misura, il governo incentiva l'abusivismo e di questo se ne assumerà le responsabilità anche dal punto di vista legale e nostra intenzione è tutelare i nostri interessi nelle sedie appropriate. Cosa pensate? Che faranno i milioni di ragazzi che abitualmente frequentano i nostri locali, sottolinea Pasca? Si riverseranno nei concerti, nei festival, andranno a ballare alle sagre paesane, nei centri sociali, ma soprattutto ai rev illegali. Proprio è un bel modo per garantire la sicurezza loro di tutti quanti. Noi siamo stati i primi ad aprile a chiedere l'introduzione del Green Pass per ballare all'aperto. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta, salvo vedere, a distanza di tre mesi, che siamo gli unici rimasti esclusi. Tutto ciò è ridicolo e inaccettabile, ha aggiunto il Presidente nazionale dell'Associazione di Categoria, definendo i 20 milioni di ristori una presa in giro briciole. Al grido di allarme del Presidente nazionale Pasca si unisce anche quello del Presidente provinciale di Sassari, di Silbe, Confcommercio Nord Sardenne, Piero Muresu. La situazione in Nato è talmente assurda che quasi si stenta a crederci, afferma Muresu. Sostanzialmente lo Stato blocca le discoteche dove ci sarebbe la garanzia di uno scrupoloso controllo della certificazione verde Covid, tale da assicurare che tutti i clienti che accedono al locale siano vaccinati o negativi al Covid. Mentre non interviene, e i fatti di cronaca ce lo dimostrano ampiamente, nelle numerose situazioni caratterizzate da sembramenti con balli che avvengono in locali non autorizzati, spiagge, strade, rave party o in case private trasformate in sale da ballo estemporane. Ma ci sono anche altri scontenti, molti titolari di bar e ristoranti, per l'introduzione del Green Pass per sedersi nei locali al chiuso. Siamo ristoratori, non siamo sceriffi, questo in sintesi il messaggio che arriva da Marco Lombardi, presidente regionale del Movimento Imprese e Ospitalità. Dopo l'annuncio del nuovo provvedimento introdotto dal Governo, stiamo ricevendo già le prime disdette, dichiara Lombardi. Già da questo fine settimana e da tutta Italia stanno arrivando segnalazioni di clienti che rinunciano alla vacanza, alla cena, al pernottamento. Un provvedimento è una modalità di controllo che è il Movimento Imprese e Ospitalità, a bocce in toto. Un'altra volta con un provvedimento impongono a noi ristoratori di fare i poliziotti e controllori, prosegue. Ci viene imposto di richiedere al cliente con un'applicazione di Green Pass e documento di identità per verificare se si tratta effettivamente della persona al quale corrisponde il QR code. Per noi è impossibile. Ci sono bar dove c'è un continuo via-vai di clienti, persone che si avvicinano al bancone e poi si siedono. Diventa impossibile adempiere a quando ci viene richiesto. Questa è l'ennesima mancanza di rispetto al nostro settore che è già stato messo in ginocchio per quasi due anni. Non siamo Novax, conclude Lombardi, ma con questi criteri di controllo viene per l'ennesima volta bombardato un settore che dall'inizio della pandemia è stato danneggiato. E come sempre facciamo il punto sull'emergenza Covid. Intanto vuol dire che l'effetto Draghi, così è stato ribattezzato, c'è stato anche in Sardegna con 6.000 prenotazioni nelle ultime 24 ore a dispetto di una media di 4.000 nei giorni scorsi. Quindi, a poche ore dall'annuncio del Premier sul Green Pass obbligatorio per gran parte delle attività sociali, le prenotazioni per i vaccini hanno registrato un'impennata un po' in tutte le regioni, compresa la nostra, dove c'è stato un più 50%. Sul fronte dei dati giornalieri relativi ai contagi e ricoveri, nell'ultimo bollettino sono stati riportati 261 nuovi casi a fronte di 6.890 tamponi eseguiti. Non si sono registrati decessi, mentre sul fronte dei ricoveri o spiedalieri da registrare un calo dei pazienti in area medica, da 60 sono passati a 51 e due ingressi in più in terapia intensiva che portano il totale a 6 pazienti ricoverati. In isolamento domiciliare ci sono 2.682 persone, mentre i guariti registrati ieri sono stati 27. L'isola rientra anche tra le quattro regioni che nel periodo tra il 16 e il 22 luglio hanno superato la soglia dei 50 casi per 100.000 abitanti e che quindi, se non fosse stato previsto l'aggiornamento dei parametri nel nuovo decreto, sarebbero finite in zona gialla dalla prossima settimana. Nello specifico la Sardegna, con 82,8 contagi su 100.000 abitanti e in testa tutte le altre seguono il Veneto, il Lazio e la Sicilia. Ed ora cambiamo argomento. Oggi il traffico sul ponte di Fertilia riprende nei due sensi di marcia. Ieri vi abbiamo detto del soprallogo tecnico con l'impresa e la direzione dei lavori, al quale hanno preso parte anche il sindaco Conoce e l'assessore alle opere pubbliche Peru. Soprallogo che ha consentito di decidere per l'apertura al passaggio nei due sensi conseguentemente all'apertura anche di una passerella laterale al ponte dove transiteranno pedoni e biciclette. Modificata quindi anche l'ordinanza che prevedeva l'utilizzo di un semaforo per l'alternanza del passaggio sul ponte. L'apertura nei due sensi renderà più scorrevole flusso veicolare che in questi giorni ha evidenziato il formarsi di lunghe code determinate dai tempi dettati dal semaforo. Nel frattempo continuano i lavori sulla struttura, lavori che l'impresa Cimec sta eseguendo sull'altra passerella chiusa al passaggio pedonale in cui si sta collocando la pavimentazione in resina poliestere anti-sdrucciolo. Le opere previste dall'appalto sono state eseguite con la sostituzione delle strutture portanti in legno al posto delle quali sono state collocate le nuove più resistenti strutture in acciaio sulle quali si stanno posizionando appunto le nuove pavimentazioni. Ci fermiamo, facciamo una breve pausa, tra poco. Ritorniamo in studio. La formazione come impulso per la competitività delle aziende è un'azione che vede l'Università di Sassari in campo per la crescita del territorio con progetti di sviluppo ambiziosi finalizzati al sostegno delle competenze locali. Il sindaco del Gheromario Conoci su questo tema si è fatto promotore dell'incontro tra il rettore dell'Università di Sassari professor Gavino Mariotti e con Andrea Alessandrini amministratore delegato della Nobento S.P.A. L'azienda di San Marco che attualmente ha oltre 200 dipendenti ha intrapreso un percorso di crescita che mira ad arrivare a 500 posti di lavoro con un piano quinquennale. Ricerche e sviluppo, economia, design, progettazione, ingegneria gestionale sono gli ambiti nei quali l'Università affiancherà l'azienda leader nei serramenti per la formazione delle competenze indispensabili al suo sviluppo. Nobento continua il percorso di integrazione territoriale già concretizzato con Nobento Lab i tirocini aziendali in collaborazione con gli istituti scolastici della città. Un percorso che grazie alla collaborazione con l'Università di Sassari può far compiere passi avanti importanti sul fronte della crescita e della competitività. Il magnifico rettore, il professor Mariotti, sta attuando quel senso di vicinanza alla comunità con cui ha improntato la sinergia con la città di Alghero ha commentato il sindaco Mario Conoci. Il nuovo corso dei rapporti con l'Università è uno degli elementi che l'amministrazione comunale sta mettendo a frutto per definire, aggiunge, strategie di sviluppo con un orizzonte che deve toccare il turismo, i trasporti, i temi della sostenibilità ambientale, la programmazione. La TS di Sassari, Dipartimento Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ha comunicato che i controlli effettuati sull'acqua di fertilia ad uso potabile risultano conformi. Conseguentemente, il sindaco Conoci ha provveduto alla revoca dell'ordinanza sindacale numero 27, avente ad oggetto il divieto per tutte le utenze domestiche e non domestiche di fertilia. A Maristella, nonché per quelle poste tra la stessa fertilia, fino alla Torre Nuova di Portoconte, di utilizzare l'acqua della rete, quale bevanda, per la preparazione degli alimenti. Quindi, revocata l'ordinanza. E ora parliamo invece della bella accoglienza che ieri mattina hanno avuto i tre equipaggi francesi presso il porto di Alghero. In questi giorni d'estate sono impegnati nel Giro della Sardegna a bordo dei Trimarani a vela a pedale. Sono partiti da Stintino, hanno impiegato circa tre giorni per far tappa ad Alghero. Come vediamo dalle foto che vi stiamo mostrando, ad attenderli in banchina il presidente del Consorzio del Porto, Giancarlo Piras, che ha consegnato loro alcune brochure sui servizi portuali e le bellezze ambientali del territorio della Riviera del Corallo col parco di Portoconte e l'area marina protetta di Capocaccia, Isola Piana. Uno sguardo come al solito agli appuntamenti in programma oggi e domani inseriti all'interno del cartellone di Finalmente Alghero. Prosegue la rassegna Cinema delle terre del mare. Stasera una doppia visione. La Napoli di mio padre, di Alessia Bottone e After Love di Ale e Khan, entrambi a cura della società umanitaria, sempre nello spazio del Qualte a partire dalle 22. Domani invece, alle 18.30 prosegue il weekend del Festival delle Cinema delle terre del mare ma nello scalo Tarantiello con Alghero, città del cinema, itinerario del cine-turismo a cura di Nadia Rondello e Maria Cao di Sandira con la partecipazione di Davide Casu. Sempre domenica, invece alle ore 19, nel giardino però del Museo del Corallo, nuova presentazione di libri per l'Associazione Alghe Negra per la rassegna libri autori in città Chemie Ruschi, la storia di Michele Schiru. In 14 date, presentazione del libro di Massimo Lunardelli. Le sonorità invece del jazz Alghe chiuderanno il weekend nello storico e centrale scenario del palco del Qualte con il live di Greta Panettieri Quartet a cura della Bayou Club Events. Chiudiamo con un altro appuntamento musicale che però si è già svolto lo scorso 22 luglio nella suggestiva location di Villa Mosca. Lì si è esibito Daniele Vitale, un famoso sessofonista italiano unico da aver conquistato il prestigioso premio YouTube Gold Button con un record di scritti che sfiora la soglia dei 4 milioni e in un solo video si contano ad oggi più di 118 milioni di visualizzazioni. Il giovane talento campano ha conquistato il mondo iniziando con il suo street sax per le strade di Napoli dove da sempre ha coinvolto passanti e turisti. Anche nei mesi di lockdown si è distinto girando una straordinaria versione di O Sole Mio in collaborazione con il talento americano di soli 11 anni Carolina Prozenco. Il video ha fatto il giro del mondo. Un susseguirsi di suoi video suggestivi realizzati sempre in luoghi straordinari inoltre stanno inondando la rete. Altri milioni di visualizzazioni stanno alimentando le pagine social dell'artista grazie agli ultimi video ne fa li accompagnato anche da Benedetta Carretta conosciuta per la sua voce sublime e per essere stata vincitrice della seconda edizione di Io Canto il famosissimo talent show condotto da Gerry Scotti. La serata di Alghero ha seguito quella di Santa Teresa di Gallura dove anche lì ha riscosso davvero molto successo. Ed è tutto per l'edizione di oggi del nostro telegiornale io come sempre vi lascio alle previsioni del tempo essendo sabato vi auguro un buon fine settimana l'informazione di CatalanTV ritorna puntuale lunedì alle 13.30 arrivederci. Grazie. 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 Grazie.